DREAM ON! DREAM ON! Lanciò una testata nucleare su Los Angeles. Stiamo lottando per la nostra sopravvivenza. Sergente Taylor, siamo a un passo dal vincere la guerra. Ma le AI stanno sviluppando una superarma. Recuperala. O vinceranno. Hai localizzato l'arma? Sì, è una bambina. Tu andrai in paradiso? No. Bisogna essere una persona buona per andarci. Allora, siamo uguali. Non andremo in paradiso perché tu non sei buono. E io non sono una persona. Devi sapere che quella cosa sembra una bambina, ma sta crescendo. Chiunque avrà quella bambina vincerà la guerra. Da che parte stai? Che cosa vuoi, tesoro? Che tutti i robot siano liberi. Quello non ce l'abbiamo in frigo. Un gelato va bene? Che cosa vuoi, tesoro? Grazie a tutti.